6 giornate alla fine, 18 punti ancora disponibili e in partite come queste i punti valgono doppio perché in palio c'è la salvezza dallo stadio Italo Nicoletti di Riccione, buon pomeriggio amici di BepiTV da Davide Gerose, benvenuti alla 29esima giornata del girone F di Serie D benvenuti a United Riccione contro Termoli c'è ancora qualche secondo di attesa e si parte, rotola il pallone sullo stadio Italo Nicoletti, è cominciata Riccione il possesso con Cagliazza, lancio lungo, profondità, cercare la corsa da parte di Bursio che supera Bulgarelli poi non riesce a depositare il pallone in fondo alla rete di Pellacani che va a lancio lungo, fallù di testa, la fa sua e poi dà un'occhiata alla porta, calcia il numero 77, non inquadra però lo specchio di Hernandes prova a tornare in quella zona per cercare l'inserimento di Ciao, chiude la difesa a redizione, raccoglie Scoppa che prova, è la palla che si incastra sotto l'incrocio dei pali, un gol stupendo di Federico Scoppa che sblocca la partita al 27, 0-1 al Nicoletti via centrali, Maio allarga il gioco sulla sinistra per Diodato, sovrapposizione di Pellacani Diodato va da solo, calcia Diodato, alto sopra la traversa la rincorsa di Maio, punizione che supera la barriera, arriva Lombardo coi tempi giusti a mettere il pallone in calcio d'ango qui Scoppa, largo sulla destra, il cross, intanto Maiorino, deviazione che non arriva né da una parte né dall'altra, quindi si ripartirà con Rivio Colarelli, la tiene allora Barchi, giocata qui che vanda nel spazio poi Colarelli, Hernández, col mancino, palla che si alza, l'aveva impattata bene Hernández ma non è riuscito a far terminare il suo mancino in fondo all'aria in avanti il numero 19, palla dentro, toccata da Fallu poi il cross, Nendoi, atterrato all'interno della rigore ma si gioca col tiro, poi tentato da Colistra, murato la difesa allora calcio di punizione per Riccioni, a cercare il cuore dell'aria rigore a cercare i centimetri di Fallu, che prova poi la rovesciata è la grande risposta da parte di Lombardo aveva provato qui la rovesciata Siku da parte del numero 8, Caponi, cerca zona primo palo Lombardo con la palla che gli era sfuggita ma comunque l'atteggiamento apprezzato dal tecnico che appunto è con Fallu, che riconquista il pallone poi Silla, prova la girata, inscivolata, chiude tutto Cagliazza palla che rimane lì, ancora Silla e poi Uzzolo allontana la sfera le proteste contro il direttore di gara attenzione perché arriva un cartelino rosso per la panchina ha espulso il vice allenatore c'è dialogo sulla panchina del Termoli chissà che a breve non possa arrivare una modifica dalla panchina intanto la sponda Ferrara, atterrato, calcio di rigore per Riccione con la trattenuta di Uzzol che ha preso il braccio di la rincorsa da parte di Fallu Fallu apre palo e palla che esce sul fondo gestito questo possesso arriva il triplice fischio del direttore di gara può esultare il Termoli per questa vittoria esterna per 1-0 decide la rete di scoppa quindi torna al successo in trasferta che mancava dal 14 di gennaio il Termoli e conquista il 21esimo punto su 36 disponibili allunga a più 4 la zona russa